Emergenza clima, sfida del nostro tempo per Mario Draghi, oggi Fridays for Future in piazza anche in Italia. La pandemia rallenta, meno contagi e ricoveri, per ora nessuna criticità nelle scuole. L'Europa ritrovi l'anima, così il presidente della CEI Bassetti e i Vescovi europei sogno un nuovo umanesimo basato sulla centralità della persona umana. Buongiorno, bentornati all'appuntamento con l'informazione di TV2000. In apertura il discorso di Draghi alle Nazioni Unite nella notte italiana. Il Premier ha affrontato i temi Afghanistan, ripresa post-Covid e transizione energetica. Federico Plotti. Multilateralismo, Covid, immigrazione e ambiente. Il Premier Mario Draghi nel suo intervento ai lavori dell'Assemblea Generale dell'ONU indica le sfide che attendono la comunità internazionale nel prossimo futuro. Quella governance globale che ha garantito in qualche modo pace e sicurezza a partire dall'ultimo dopoguerra si va indebolendo, dice Draghi. Proprio adesso in cui c'è bisogno di tutti per affrontare le minacce del nostro tempo. Problemi troppo grandi per essere combattuti e risolti da soli a partire dalla pandemia di Covid. Una crisi sanitaria mondiale che ha avuto effetti devastanti anche sulle società e sulle economie, soprattutto dei paesi più poveri e che adesso rischia di cancellare in un sol colpo anni di progressi nella lotta alla povertà. Per questo, prima di tutto, ha evidenziato il Presidente del Consiglio, bisogna aumentare la disponibilità di vaccini lì dove sono arrivati con il contagocce. Nei paesi più poveri appena il 2% della popolazione è stato immunizzato, contro il 65% in quelli ad alto reddito. Povertà che genera migrazioni, che, sottolinea Draghi, devono essere gestite dall'intera comunità internazionale con un'azione multilaterale strutturata intorno ai principi di condivisione degli oneri e delle responsabilità. E poi c'è la crisi afghana, con le donne che stanno subendo, in termini di cancellazione dei diritti, il contraccolpo più forte dopo l'arrivo dei talebani, crisi che potrebbe inoltre innescare una nuova e pericolosa deriva terroristica. Temi che, come conferma Draghi, saranno al centro di un G20 straordinario, sotto la Presidenza italiana. Altro nodo centrale del suo intervento, l'ambiente. I cambiamenti climatici stanno sconvolgendo il mondo, ha detto ancora il Premier italiano. Bisogna agire in fretta, con un'azione convinta e condivisa. E proprio per parlare di emergenza climatica, oggi le piazze d'Europa tornano a riempirsi di giovani preoccupati per il futuro. Letizia Davoli sta seguendo in diretta per noi l'appuntamento di Roma. Buongiorno Letizia. Buongiorno, buongiorno Clara. Sì, ebbene, noi siamo qua a Piazza della Repubblica a Roma, dove si sta smolvendo appunto la manifestazione romana dei Fridays for Future. Voi conoscete manifestazioni che sono state promosse, ideate da Greta Thunberg, che hanno coinvolto fino ad oggi decine di migliaia di ragazzi in tutto il mondo. In Italia oggi sono una settantina gli appuntamenti. In Germania invece oggi è Greta a Berlino, perché in Germania fra due giorni si svolgeranno le elezioni e quindi si chiede in Germania, come in Italia, un aumento di attenzione e di sensibilità nei confronti appunto della crisi climatica del nostro pianeta. A Roma erano annunciati 5.000 ragazzi, ma qui attorno, come vedrete anche dalle immagini che vi abbiamo inviato, sono sicuramente molti di più. E accanto a me volevo presentarvi Luca ed Elena. Loro sono due ragazzi che hanno proprio una storia particolare. Voi avete iniziato il vostro percorso proprio dai Fridays for Future, ma la vostra mascherina ci dice qualcosa di più, che è un impegno che poi è cresciuto. Esatto, abbiamo cominciato come la maggior parte dei giovani a seguire le vicende di Greta fin dall'inizio dei Fridays for Future fino ad adesso e quindi siamo rimasti qua. Poi abbiamo creato per essere più attivi e concreti sul nostro territorio, quello di Fiumicino, il nuovo circolo di legambiente. Siamo tutti ragazzi tra i 18 e i 20 anni che vogliono essere concreti nel migliorare il posto dove viviamo. E questo è già un grandissimo risultato, un aumento di sensibilità anche da parte di voi giovani. Voi oggi qui in particolare, che cosa chiedete? Oggi chiediamo attenzione non soltanto mediatica ma soprattutto da parte delle istituzioni. Il fatto di non essere un problema di secondo grado rispetto all'emergenza dell'epidemia del Covid. Non siamo una moda passeggera, Greta Thunberg non era soltanto un anno fa. Siamo qui ancora adesso a ribadire che provvedimenti seri non ce ne sono, ci sono soltanto tante chiacchiere e noi siamo stupi. Ecco appunto, proprio chiacchiere. Elena, avete una maglietta che ho scritto le chiacchiere stanno a zero. Perché? Le chiacchiere stanno a zero, le emissioni ancora no perché i governi continuano a parlare di cambiamento climatico come se fosse un problema secondario e non prendendoci sul serio. Invece noi vogliamo dimostrare che non è così proprio a distanza di pochi giorni dalla Precop che si svolgerà a Milano, quindi la conferenza per il cambiamento climatico. Noi siamo qui in piazza per lanciare un messaggio e quindi far sentire la nostra voce. Sì, un'ultima domanda, velocissimi, che dobbiamo lasciare alla lina allo studio. Ecco, si pensa, tantissimi ragazzi, chiedete delle domande, delle cose importanti. Vale la pena di fare queste manifestazioni? Anche se la causa è enorme e ci rendiamo conto che il problema è enorme, vale sempre la pena lottare se una causa è giusta. Perfetto, su questo restituiamo lei nello studio, grazie, tutto da Roma. In Italia calano ancora l'incidenza dei casi di Covid e l'indice di trasmissibilità RT. Emerge dal monitoraggio settimanale sull'epidemia dell'Istituto Superiore di Sanità. Antonella Mitola Il quadro della pandemia nel nostro Paese continua a migliorare, secondo quanto emerge dalla bozza del monitoraggio settimanale all'esame della cabina di regia. Si riduce ancora l'indice di trasmissibilità RT che nel periodo 1-14 settembre è passato a 0,82 rispetto a 0,85 della settimana precedente. L'incidenza per il periodo 17-23 settembre è scesa a 45 casi ogni 100.000 abitanti rispetto ai 54 della scorsa settimana. L'incidenza più alta si registra in Sicilia, provincia autonoma di Bolzano e Calabria. In diminuzione il tasso di occupazione in terapia intensiva che si attesta al 5,4 rispetto al 6,1 della settimana scorsa. Migliora leggermente anche il tasso di occupazione in aree mediche, secondo i dati aggiornati al 21 settembre diminuisce leggermente al 6,8 dal 7,2%. Anche questa settimana sono quattro le regioni, province autonome che risultano classificate a rischio moderato. Si tratta di Piemonte, le province autonome di Bolzano e Trento e la Valle d'Aosta. Le restanti 17 regioni sono considerate a rischio basso. Abruzzo e Molise escono invece dalla classifica di rischio moderato. Via libera del Consiglio dei Ministri ai tagli sulle bollette di luce e gas. Ha approvato un decreto antistangata del valore di 3 miliardi, di cui beneficeranno famiglie povere e numerose, oltre a piccole e piccolissime imprese. Francesco Durante. Non ci saranno i paventati rincari sulle bollette di luce e gas per 3 milioni di famiglie e circa 6 milioni di imprese. Il Consiglio dei Ministri ha approvato infatti un decreto legge del valore di quasi 3 miliardi e mezzo per contenere gli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, fino al 40% che l'autorità per l'energia fisserà dal 1 ottobre al 31 dicembre. Il provvedimento introduce misure urgenti a favore di famiglie povere, numerose e nuclei con persone che hanno gravi problemi di salute. Le nuove misure intervengono a vantaggio degli oltre 3 milioni di utenti che beneficiano del bonus energia, quelli cioè con un ISEE inferiore a 8.265 euro annui, esteso a 20.000 per i nuclei familiari con almeno 4 figli. Aumenti praticamente azzerati anche per chi percepisce reddito o pensione di cittadinanza e utenti in gravi condizioni di salute. Per quanto riguarda le imprese, invece, i vantaggi interesseranno solo quelle piccole e piccolissime, con utenze in bassa tensione che vedranno azzerate le aliquote relative agli oneri generali di sistema. Infine, per tutti gli utenti del gas naturale, sia famiglie che imprese, l'IVA attualmente al 10 e al 22% a seconda dei consumi viene abbassata al 5%. Misure che per la Confcommercio si muovono nella direzione giusta, ma non risolvono in modo strutturale i nodi del nostro sistema energetico. Critiche anche da assolutenti. Le misure sono a tempo determinato e i maxi rincari, perciò, sono solo rimandati. La cronaca in Lombardia svolta nel caso dell'ex vigilessa Laura Ziliani. La donna era scomparsa l'8 maggio scorso a Temue, in provincia di Brescia. Il suo corpo era stato ritrovato alcuni giorni dopo. Oggi i carabinieri della compagnia di Breno hanno arrestato due delle tre figlie e il fidanzato della più grande. Il momento dell'omicidio sarebbe di natura economica per la gestione di alcuni immobili di cui era proprietaria la 55enne. Sentenza ribaltata al processo sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. La corte d'assise d'appello di Palermo ha assolto gli ex ufficiali del Rossa e Marcello Dell'Utri. Massimiliano Cocchi. Non ci fu reato dunque in quella che per anni è stata ritenuta una delle pagine più oscure e inquietanti della recente storia italiana, la trattativa tra Stato e mafia. La corte d'assise d'appello di Palermo, ribaltando la sentenza di primo grado, ha stabilito che quella trattativa ci fu, ma che fu legittima. Erano gli anni delle stragi, quelle di Capace e di Via D'Amelio, le bombe di Firenze e Milano, le autobombe esplose a San Giovanni in Laterano e San Giorgio al Velabro a Roma. Secondo la procura di Palermo, in cambio della fine della strategia stragista, alcuni ufficiali dei carabinieri avrebbero offerto l'attenuazione del carcere duro per i mafiosi che si trovavano in prigione, trattando con l'ex sindaco di Palermo Vito Ciancimino, condannato per mafia. Secondo la difesa, invece, il dialogo instaurato dai carabinieri con la mafia fu una semplice operazione di polizia con lo scopo di catturare il boss Totò Riina e non fu una trattativa. Ieri la sentenza di appello ha accolto la tesi della difesa e così sono cadute le accuse e le condanne di primo grado per gli ufficiali dei carabinieri Antonio Subranni, Mario Mori e Giuseppe De Donno e anche per l'ex senatore di Forza Italia, Marcello Dell'Utri, accusato di essere stato il tramite di cui Cosa Nostra si era servita per far arrivare la sua minaccia al governo guidato allora da Silvio Berlusconi. Sogno una nuova Europa solidale che sappia essere casa comune. Così stamani il Presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il Cardinal Bassetti, alla plenaria dei Vescovi Europei. Ascoltiamo le sue parole. Pesso infatti che l'Europa sia soprattutto un luogo dell'anima con una storia profonda, antica, complessa e soprattutto con un'eredità ricchissima per ognuno di noi. Personalmente sogno una nuova Europa solidale che sappia essere veramente una casa comune e non solo un insieme di strutture e che si fondi su un nuovo umanesimo europeo basato sulla centralità della persona umana la cui dignità è sempre inalienabile e su una nuova cultura del dialogo e dell'amicizia sociale come ha scritto Francesco nella Fratelli Tutti. Questa enciclica, oltre al dialogo ecumenico, rimanda alla grande questione dei flussi migratori. Si tratta di un tema delicatissimo. Serve un'azione coordinata a livello internazionale nel gestire un fenomeno al tempo stesso complesso e drammatico. Su questo punto è fondamentale il ruolo dell'Europa. Ed una precisazione, la certificazione verde non è richiesta per partecipare alle celebrazioni. Si continua ad osservare quanto previsto dal protocollo CEI governo del 7 maggio 2020 integrato con le successive indicazioni del Comitato Tecnico Scientifico. E dunque mascherine, distanziamento tra i banchi, comunione solo nella mano, niente scambio della pace con la stretta di mano e acqua santiere vuote. E la puntualizzazione del cardinale Gualtiero Bassetti, arcivescovo di Perugia, città della Pieve, e presidente della CEI. E andiamo in Corea. Pyongyang apre alla dichiarazione di fine guerra con Seoul. Kim Jo Jing, l'influente sorella del dittatore nordcoreano Kim Jong-un, definisce interessante e una buona idea l'offerta sudcoreana di siglare un documento di pace per il conflitto concluso nel 1953 solo con un armistrizio. La proposta di dichiarare la fine della guerra veniva dal presidente sudcoreano Moon Jae-in durante il suo intervento alle Nazioni Unite. È tutto, vi lascio al meteo e a terza pagina. Grazie per averci seguito. Appuntamento con l'informazione alle 14.55. Buon pomeriggio.